Red Star Press nasce nel 2012 quando un gruppo di lavoratori dell'editoria si trova nella condizione di voler dare corpo a un proprio progetto, un progetto che doveva parlare di storia e cultura del movimento operaio. Il caso ha voluto che in quel periodo eravamo impegnati con un editore che non ci stava pagando fondamentalmente, allora abbiamo avuto l'idea di andare da lui e dirgli il credito che vantiamo noi due confronti lo giriamo sulla tipografia e facciamo da soli. Fondamentalmente ci siamo recuperati diciamo così un'impresa e abbiamo iniziato a stampare per il nostro conto. Era appunto il 2012, adesso sono passati dieci anni e alcuni di noi di quel gruppo originario c'è chi addirittura si è trasferito all'estero insomma però di base siamo rimasti uniti per quanto riguarda le relazioni che avevamo fra di noi e soprattutto la casa editrice ha continuato a fare libri sempre nel campo della storia e della cultura del movimento operaio ora ne abbiamo fatti più di 200 insomma. Sulla carta una piccola casa editrice è organizzata come una grande nel senso che le cose da fare sono le stesse. Nella realtà c'è un cambiamento quantitativo e per quanto ci riguarda anche qualitativo nel senso che io credo che se non si vuole fare un lavoro alienante è bene cercare di conoscere tutti i passaggi che portano alla formazione di un libro e quindi anche se ognuno può e si dedica in linea privilegiata diciamo così a qualcosa che può essere appunto l'editing, la correzione delle bozze, i rapporti con gli editori di altri paesi, i rapporti con gli autori, le autrici, il magazzino, tutto il capitolo dell'ufficio stampa e dei social media. Nella pratica noi cerchiamo sempre di avere ognuno un'infarinatura un po' di tutto e al tempo stesso quindi molto spesso alterniamo un po' i ruoli rispetto a chi si occupa di fare cosa. Allora devo dire la verità che da quando abbiamo fatto la Red Star Press in qualche modo evidentemente siamo riusciti un po' a comunicare quello che noi volevamo fare, la storia e la cultura del movimento operaio, della resistenza, delle lotte di liberazione dei popoli oppressi contro il patriarcato questo ha riverberato in qualche maniera e chi ci segue ci fa delle proposte in genere veramente molto ben centrate rispetto alle cose di cui noi ci occupiamo e per cui da questo punto di vista ci sentiamo privilegiati perché veramente nelle case editrici a volte arriva letteralmente di tutto in sostanza. C'è questo centro studio Open Memory che lavora in sinergia con Sharewood, tutte le attività della radio che stava raccogliendo questo materiale che Tommaso Baldo produceva per quanto riguarda la resistenza tra Liguria e Piemonte erano usciti anche degli articoli che anticipavano il lavoro su Global Project e poi è successo che questo progetto potesse avere una consistenza cartacea e ci hanno proposto di fare il libro e mentre ce lo raccontavano ci dicevano appunto della resistenza in Piemonte nella forma racconto con la quale si affrontava l'argomento devo dire la verità ecco quando solo me lo raccontavano io già mi vedevo il libro veramente stampato perché ci siamo sempre occupati di storia della resistenza abbiamo sempre cercato anche di farlo in un modo che fosse parlando all'oggi parlando di ieri ma all'oggi e questo libro veramente ha assolutamente queste caratteristiche come si sceglie il titolo di un libro è proprio la domanda più difficile perché noi delle volte ci siamo segnati i titoli dicendo voglio trovare un libro che ha questo titolo e a volte non l'abbiamo mai trovato però a volte abbiamo detto voglio fare un libro intitolato tutti i titoli dei libri che non ho scritto perché è veramente una questione centrale come metodo quando facciamo libri di storia allora a volte puntiamo magari su una frase evocativa e poi però lavoriamo col sottotitolo per cercare come se fosse l'occhiello di un giornale di spiegare di anticipare in qualche modo a modi sommario quello che ci sarà dentro al libro e questo per dire che per quanto riguarda il libro di Tommaso Ubaldo stiamo ancora lavorando a questa alchimia insomma ecco per trovare la strada migliore editing è una parola che all'interno nasconde diciamo ambiti molto grandi e diversi fra di loro nel senso che ci sono effettivamente dei libri talmente ben accentrati che francamente non hanno bisogno di chissà quali interventi diciamo anche anche a livello proprio di confezionamento contengono già tutti gli elementi che facilitano molto il lavoro dell'editore ci siamo resi conto che col passare del tempo si davano per scontate tante cose per quanto riguarda soprattutto la storia del movimento operaio in generale ho cominciato a corredare di note puntuali tutti i testi classici che continuavano magari a circolare così come erano stati pensati addirittura in alcuni casi anche alla fine dell'ottocento e quello è un modo per esempio di fare editing cioè di arrivare a un libro che risponde a domande risponde in modo nuovo a domande che nel tempo restano le stesse alcune cose si possono si possono diciamo prevedere nel senso un lavoro su un testo su un buon testo bisogna immaginare un mese di tempo una settimana dieci giorni per l'impaginazione nel frattempo deve venire fuori la copertina 14 giorni ci vogliono più o meno per la stampa e quindi ecco qua che quando tutto va bene tre mesi li possiamo considerare cioè è più spesso questo che tre mesi ci vogliono uguale poi dopo se tu li recuperi facendo 20 ore al giorno di lavoro piuttosto che se li diluisci in un po' di ore al giorno ecco però capita anche insomma di chiudere i libri veramente un po' a tempo di record perché improvvisamente c'è un'occasione che non si può mancare che non si vuole mancare e allora insomma si butta il cuore oltre l'ostacolo e si corre tantissimo